Avrebbero rapinato un fruttivendolo per poi andare tranquillamente al bar a fare colazione. Accaduto a Corato nel barese dove i carabinieri hanno portato in carcere quattro uomini. L'esercizio commerciale aveva da poco aperto i battenti quando in tre di cui un armato di pistola si sono presentati nel negozio di frutta e verdura del centro cittadino chiedendo soldi da corrispondere con periodicità. Un quarto complice li aspettava in macchina alla ferma reazione del titolare. I tre soggetti non si sarebbero fatti scrupolo a colpirlo con il calcio della pistola alla testa e le avrebbero sottratto 20 euro e il telefono cellulare per poi darsi alla fuga con l'auto guidata dal complice. Le indagini avviate e anche visionando le telecamere di videosorveglianza della zona hanno permesso ai militari di identificare i presunti autori della rapina i quali dopo il delitto tra l'altro avrebbero pensato bene anche di andare a fare colazione in un bar del centro. Per i quattro uomini tutti già noti si sono aperte quindi le porte del carcere come disposto dal PM di turno della procura di Trani che ha chiesto la convalida dell'arresto. L'accusa è di tentata estorsione, rapina e porto abusivo di arma.